Ciao gente simpatica, io sono Waldorf e siamo in un altro episodio late game di Theia Ora come ora sto cercando di tornare indietro visto che nello scorso episodio sono sceso fino nelle profondità delle rubine Giusto un consiglio, in late game sarebbe comoda l'opzione torna all'aeronave perché dalle profondità delle caverne ce ne vuole un bel po' per tornare indietro Oh che bello, l'ho schivato In questo episodio piuttosto che continuare l'episodio su Altidia andremo tutta l'altra parte Dove era? No aspettate, non era E' qui sull'aeronave il posto dove andiamo Si trova nel posto più remoto del mondo allo stesso tempo nel posto più vicino a me stesso Si trova a Estremordalia, si quello Cavolo mi mancano un bel po' di statuine qui Ecco qui, Estremordalia Arrivo Per oggi insomma è prevista una bella boss rush Corridorio dell'alba, arrivo Perfetto Questo non l'ho preso Ah si perché ero morto Iniziamo la prima battaglia contro il boss Che l'altra volta ho scoperto che è severamente vulnerabile alla mossa di Neon Adesso vediamo Ok è ancora forte, è ancora forte il boss Però con lo stratagemma di Neon posso provare a batterlo Rudra, fuori a lei Aia Set è già quasi morto Iniziamo bene Oh, sopravvivenza fa male agli acquatici Facciamo fuori prima gli sgarri Mi muore Set ancora un po' Marti ha cura Set Perché Neon deve buttare una bellissima spezza gravità 52.000 danni al boss È bellissimo, bellissimo E credo che lo userò di nuovo la mossa Attacca nuovo quello, vai Andiamo a fare fuori prima gli sgarri Perfetto, uno in meno Dempe, cosa? Farà male, farà male No, non fa male Strano, strano Allora, sprovvivenza sullo sgarro Marti ha cura Magari Neon perché ci serve Neon per battere il boss Grazie al suo stratagemma Vai, spezza gravità Due Gli altri 13.000 danni al boss Grandioso Ok, mi è morto Set Ma non è un problema Attacca il tipo, vai Grandioso Dai, non è così difficile Se trovi lo stratagemma, giusto Insomma Benedizione Vai Marti Brava Basta che... Colpo Kuda No, mi riduci la difesa Ah, non è Pokémon Infatti mi ha fatto 3.000 danni 3.000 danni Vai Rodra Vai, spezza gravità Per la terza volta Perché fa sempre più male di un attacco normale Insomma 2400 È morto adesso Gli do un attacco e vinco Ha vinto Grande Neon MVP proprio Sigillo alfa Ottimo Ottimo E level up Ci sono amici normali? No, no Aspetta Meglio salvare Ah già E anche curarsi Dimenticavo C'è una zona per curarsi? Zù del tesoro Allora Dove usiamo il nostro sigillo alfa? Io inizierei in ordine Vai Usa il sigillo alfa Gli ho trovato? Ferion Dove sei quando servi? Ah Che penso a fare di forzieri Premio Se dopo non puoi aprirli Hibernum Sono curioso adesso Per Soffet Autogenesi Autoimpeto Autocarica Autotutto Bene Mi sa che troveremo Soffet a breve Allora Allora Prenderei dei 6 membri più deboli Così li posso allenare Spero Quindi Via set Vieni Ferion Ah no Ce l'ho già in squadra Vieni Dyle Caposquadra Dyle Mi pare un po' strano Ma ok E anche te Martina Vieni su E andiamo avanti nel Corridoio dell'alba Che immagino È la zona più facile Dai Un nemico Proviamo Proviamo a vedere Quanto sono fatti Sembrano Preoccupanti Eletromagnetismo Ok Non fanno male Ma mi rallentano un bel po' Analisi Vai Sono curioso Perché non so cosa siano Questi sgorbi Rayu Ha un bel po' di vita Animale Debole a terra E c'è Salamandra Rettile Debolezza ghiaccio Ok Quindi salamandra Un rettile Vai Farai male Martina vai Sette mila d'anni Flore Non serve Però meditazione Per Martina Questo serve Milione Adrenalina Su Martina Ma sarà lui Che fa male Martina Qui Vai Martina La maeroica Di nuovo Brava La maeroica Ancora Ha E non muore Lenitiva Per Farion In arrivo E vai Attacca Farion Fai male Almeno con il primo tizio Cos'è Ok no Ho perso il turno Aia La maeroica Ancora E muore Ottimo Almeno uno Goccia vitale Su Martina E ora vediamo Cacciatore Sì Devo dire che fa male E vai Di Facum Sì Fa male Fa male Non mi lamento Cacciatore E Alexis Pronta Non succede spesso Con le battaglie comuni Aura magica La bustiamo al massimo Dovrei un po' Cambiare membri Perché Gli unici che ho Fanno solo cure E Adrenalina Vai L'uomo Del creatore È un po' Spercata Negli incontri casuali Ma Finchè c'è Usiamola E addios Ah Non è morto Ok Adesso è morto No Adesso si è morto Però Ottimo Yeah Quadruplo level up E cambierei gruppo Però Tipo Toglierei Farion Scusa Farion Tipo Rudra Vai Rudra Sì Certo A livello alto Rudra Ma Non vedo Miglior opzione Ah già Ma il tipo Ha rispawnato Cosa fanno Se i tipi Rispawnano Tutto il giorno Non ho capito Guardie Chiaro Aia Aia Fanno male Dove curarmi In effetti Molto curarmi Molto curarmi Intanto Spezza gravità E con Dile Magari proverò Com'è che Rudra È morto Forse Aveva poca vita Ma non ho visto Goccia vitale Su Rudra Dai Forza Era meglio Martia Così Ressuscitavo gli altri Ma Ok Ma fa malissimo Sta mossa Ok Forse sono un po' Troppo forti Fiamma spirituale Vediamo Inutile Ok Letteralmente inutile Dai Spezza gravità di nuovo Perché voglio vedere Quanta vita hanno Se è meglio fuggire O provare a batterli Hanno ancora poca vita Tipo un attacco E muoiono E Anch'io Meno male che ho salvato Quindi Dile È meglio sicuri Perché Rudra C'ha Un poco meno Di mille punti vita E ora Andiamo dritti Per quel forziere Che sarà Mio Nostro Lucro di l'ambra Dai Non è così male Scusatevi Scusate se vi ignoro Ma Ok Questa no Ok Caricate un pochino Su Dai Non morire Rudra Quattro mie danni Ma stai scherzando Furore Che aspetti Martia Retti Liberazione Creature magiche Alati Vai Alato Per te Ha Eh fa male Goccia vitale Per Rudra Magari E Fè E Neon Ci butta Una bella Spezza gravità Hanno tanta vita Eh i guardiani Beh Un bel po' Gli l'ho tolta Però Basta Folgora Non fa male Allora Rudra Attacca La lato Così Lo facciamo fuori Subito Ottimo Martia Questa sarà Una creatura magica Vediamo Per me Una creatura magica No No Florem Per tutti Sì È il caso Adrenalina Su Rudra Sì Gli serve Vai Rudra Vai Fai male Attacca Rudra E tu vai di Attacco E dai Non può curare Cavolo Vampiria Dai Così un po' Di vita Prendi Un po' Rudra Vai No Non ha più bonus Vacuum No Vampiria Caustivina Non su Dai Attacca Rudra Ottimo Impegna Ti mamma Ce l'ho fatta Un bel po' Di esperienza 61.000 Qui c'è un forziere Che appena Senza Indugi 20 erbe Medicinali Stai scherzando Qui c'è l'uscita Ah no E' il prossimo piano Cavolo Potrei morire A breve Cos'è questo? E' Alizon Un'anima Il cui corpo E' stato perduto Rispende all'interno Del cristallo A più richiesti 15.000 Per la Ressurrezione Vai Torna con noi Alizon Alizon E' viva Di nuovo Si Ovviamente Non ci sono Cazzine Che Dove tutti dicono E' finalmente E' viva Perché Questa è una specie Di Non ho visto Cosa ho preso Cavolo Perché Questa è una specie Di Posto segreto Posto Bonus Ecco Il problema E' che Sto morando Già E' Stavolta A dare Le memorie Di Regina Di Regina Così Recupererà Mp Prima Insomma Qui i nemici Mi sa che Sono molto Pericolosi Vabbè Quelli di Prima Non sono Neanche Una Grande Minaccia Spero Certo Mi rallentano Un casino Ma Va bene Frore Rudra E tu Lama Eroica Sul Rettile E tu Ha una Magica Su Nadia Che gli serve Cavolo Quanti SP Recupera Dai Con l'armatura Un casino Adrenalina Su Magia Così Anula Il malus Destrezza Circa Lo Contrasta Aia Lama Eroica Tanto Già Il malus Destrezza Non puoi Farmi Niente Adrenalina Su Rudra Anche A lui Serve Insomma Attacchiamo L'altro Però Perché L'altro Ormai Allora Tocca a te Che fai Di bello Beh Dai un po' di Mana A Neon Perché no Insomma E vai Martia Finiscilo Brava Brava Anche se hai perso il bonus forza Poco prima di attaccare Cavolo Fai male Fai male Rudra Il cacciatore Vai E ci muore adesso No Beh Vacuum Vai Neon No eh C'è che ci sono Flore Dai Perché no E finisce Rudra Bravo Rudra Anche Marty Ha fatto la sua parte Devo ammetterlo Oh però Ho tolto a Dyle L'oggetto che gli fa recuperare Gli fa guadagnare Più punti esperienza Olio Rigenerante Ok Questo posso evitarlo Sì Posso evitarlo Attimo Anche se vi servirebbe Salire di livello Ma ok Lì c'è un mini boss Che per fai rei Non sfidare Ok Questi sono pericolosi Ma gestibili Abbastanza Per niente Furore Rudra Cacciatore Vai E tu Floren Ovviamente Vai Bellissimo Spezza gravità Sì È il caso È il caso E vai Facciamo un casino Di male Beh Come Ho fatto l'altra volta Insomma Nulla di nuovo Basta Con le mosse Fa iron Fanno male Hai Sei in furore Attacca No È morto Martia Ok Uno è morto però Floren o goccia vitale Goccia vitale Penserà Nion A curarsi Ok Vai Vai Neon L'initiva Vai Beccatela O forse è meglio per Martia Vabbè Chi se ne frega Splendore Ok Sì Mi acceca Vai Rudra Fallo fuori Fai fuori la guardia Quasi Vai Martia Cacciatore Sulla lato Che ci muore Bravissima Un secondo floren per sicurezza Perché no Ok E vacuum Non fai niente Va bene Vai Martia Grandioso Cavolo Si sa anche qui Molto bene di livello Devo dire Penso che comunque Dopo di qua Dovrei fare Un secondo giro Con set Perché Lui può saltare Su questi meteoriti Che È importante Ha schivato Però d'altra parte C'era un miniboss Vabbè Ci andrò un'altra volta Ora devo mettere in salvo La pelle E i dati di salvataggio Ha Come l'ha ignorato Di qua Lì Lì c'è Horus Non l'ho visto bene Vengo a salvarti Chiunque giù sia Questo è Non so chi sia Onestamente Potrebbe essere Il fratello di set Ho sbroccato Un neon Da giovane Si Ciao neon Ora potrei parlare Con te stesso Di nuovo Non lo so E se il neon Che abbiamo adesso Fosse un altro neon E quello vecchio E morto Teorie Confirmed Allora Qui c'è un miniboss Ma preferisco Non rischiare la pelle Ho già il team Abbastanza Debole Quindi Eclissi Cerulea Yeah Ora che ci penso Non è un'eclissi Cremisi È un'eclissi Cerulea È un bel nome Ponte vita Per tutti E magari Anche SP Cavolo Ci ha Refullati Totalmente Cos'è questo Non ho mai visto Un boss Viola Viola Ah È per Superare la parte finale Ma io non sono Abbastanza forte Per questa cosa Dovrò tornare indietro E rifare Il dream team Mi sa Ci fosse almeno Un serve point Cavolo Che dribbling Sì E sono trovato Vivo e vegeto Finne la parte iniziale Ah Che sollievo Cavolo Sono Ben insalito di livello Devo dire Ok Sono tornato E ho un po' Cambiato gruppo Questo è Leggermente meglio Immagino Anche perché Con set Adesso posso Saltare Dove mi pare Yeah Quarzone Lenitivo Ciao Ne Quarzone Benvenuto Cos'è questo Quarzone Lenitivo E poi tutti i nomi Sono scritti In minuscolo Cura Cura tutto il gruppo Per tutta la vita Bellissimo E' anche scritto in caps lock Come per dire E' fortissimone Questo qui Già E tu Ciao Tu posso venire da te Tipo qui Non si salta Ok no Come se arriva lì Forse per di qua Esatto Questo lo vittiamo Ok niente Oh oh Ma chi c'è qui Chi c'è qui Vai Compra tutto Oh abbiamo sbloccato Demia Yeeey E' strano perché Non l'ho mai usato In combattimento Quindi Non so come sia Allora Per cui io Cambierei abilità Dominio Sapete com'è Qui penso Prenderei Il dominio Che dimezza Gli status maligni Servirebbe Inoltre Mi curo un bel po' E' Si combatte Oh Un serpente Ok Inizia già col caos Devo capire Che devo subito Riempire la barra dominio Rudra Attacca Non puoi fare altro Beh poi sarò oggetti Ma non è il caso Allora Dovrebbe essere un rettile Questo Eh io non c'ho niente Per i rettili Martia c'ha qualcosa Per i rettili Però Devo buttargli un bonus Togli il caos Martia Così puoi andare Di L'homa eroica Che farà un bel po' 7776 Per 1 Martia Per 1 Martia C'è di vicina Aura magica Non serve Non serve niente adesso Magari su Martia Così Non speca troppi SP Fiamma nella livello 5 Aia fa male Vai di impetro Vai di impetro 7 Dai Perché no La maeroica Tu Cura un pochino Martia Già Rudra sei ancora in caos No Dre magia Ha è inutile Su Dael Vai in preghiera Ci serve un dominio alto Rudra Pensi di potercela fare Che maniera Aia Aia fa male con Dael 7 attacca vai Rialzare il tuo dominio E la maeroica vai Floren Tanto Tanti MSP Posso pure sprecarli con Floren Che Dette tra noi Non sono nemmeno Spercati ma ok Set Attacca Più mira set Bene Rudra No non sei Rudra Ok La maeroica Rudra Vai anche in furore Vai Dael come sempre Cura vai Ci servono le cure Attacca set Martia la maeroica Vai di Aura magica Soludra Che gli serve un po' d'aura Bene Dominio massimo Abbiamo bene Un bellissimo bonus Resistenza ai malus Un bonus Resistenza ai malus E' un po' antisonante Ma E' chiaro Senfurone Si in preghiera Allora attacca Rudra Che aspetti Attacca set No Ho fatto attaccato con Martia Va bene Dael Un po' di cure Sarebbero Comode Ecco Ottimo Rudra attacca Dai Martia vai Giù il rettile Hashtag Hashtag Giù il rettile Set Vai Dael Cura Dai Su Dael Cosa aspetti Rudra Furore ovviamente Le magia Soludra Vabbè Dovrò rimediare a breve La maeroica In beta Dai Ci serve Una belle Exceed Da set Cura Intanto Aura magica Soludra Dai Gli serve Un SP E poi Non abbiamo così Tanti problemi Di vita Ok Adesso Abbiamo seriamente Problemi di vita La maeroica Ma chi se ne frega Vai Vai L'exceed Si alza C'è quasi Ok Ok Si ti attacca Per favore Cura ti a breve Bravissima Ma non basta Ti attacca Rudra Mi ha tolto gli SP Va bene Tanto gli sta rigenerando Pian piano Cavolo E pensare che avevamo Un buon bonus Resistenza e malus Va bene La maeroica Ho vinto Sigillo alfa Ricevuta E vai E c'è anche Seth Che dice Cosa E' già finita Va bene Torniamo Salviamo E si fa il prossimo boss Immagino Ops Ho sbagliato zona Sono in quella finale Error mio Ha girato Intanto guardo Dove si trova Oh c'è un salto E' una scorciatoia E' una scorciatoia Schiva Bravo Devo vedere dove si trova L'ultima anima Per ottenere Per ottenere L'ultima chiave L'ultimo sigillo alfa Qui E' qui No C'è solo un frammento di Gaia Non che i miramenti Va bene ma Ok stavolta cambio gruppo Tolgo Rudra E metto Nadia Nadia Grazie mille Che devo dire Ah ah Un frammento di Gaia E' l'altro boss Schivato Sì Schivato Schivato Dai Staccati Bravo Bene È il momento di Ottenere anche il tuo CG Il tuo Non mi ricordo cosa mi dà Ma devo sconfiggerlo Oh cos'è questo Hai visto in due parti Ok i boss dei visti in due parti Sanno sempre molto fastidiosi Allora Cominciamo con No non ho cambiato dominio Va bene Ho terro più esperienza Ma E' meglio batterlo Va bene Andiamo di Impetto dai La Meloica Questa è palesemente un Abberrazione No è un parassita Per me è un parassita Cominciamo con quello più vicino Dai 9999 Bel colpo Bel colpo Andiamo di Crisi mentale Magari Su monerabilia Esatto E' monerabilia Sigillo Buona cosa Floren No andiamo di Avora Magica Su Nadia Ok Cosa Ehi Calma Non vai a doppio attacco su Va Martia Va bene Va bene Impetto già attivo Quindi attacca 7 Martia Aspetta la cura di Dyle Intanto attacca Cacciatore Vai di No tocca a Nadia Vampa Fa male No no Aia No ha preso il turno Ti prego fai il turno Devi curare Devi curare Devi curare E' un po' tardino mi dicono Senti Risorgi Martia Va bene Set Attacca vai Vampa Dai Dyle Ti prego fai il turno Dai Che seccatura Allora Benedizione Vai Ressuscita Tra cura Tu dici Se è riuscita No vicenda No Non fa male Il parassino Peccato Cosa è questa mossa Aia Fa male Non devo morire Non devo morire Non devo morire Allora Diamante vitale Su Martia Ne ho bisogno Sì Sì Urgentemente Martia Gli ha qualche colpo Brava Nadia Brava Nadia Se è riuscita anche tu qualcuno Magari Oh curati Meglio sti curgia Scheggia vitali Perché no Scheggia vitali Per tutti gente E ha subito il colpo Ti prego No Non devi Non tu Cioè Fate un turno Per fuori Fate un turno Set Scheggia vitali ancora Su E' una spawn kill questa E' una palese spawn kill Ho perso Ok E' il momento Della rivincita Beh allora Set Sei già in impeto Quindi Attacca ovviamente Martia Fai di cacciatore Fai male Fai male Perché dai la poca vita L'hanno già attaccata Florent di nuovo Dai E' crisi mentale Voglio sigillare quel tizio Bravissima Nadia Aia Fanno male Fanno male Fanno male Siamo un po' troppo lenti Vedo Allora Set Attacca Sei in impeto Martia pure Dai Cura subito No E' un po' tardi E' un po' tardi No Non è morta Non è morta Certo Martia Si Però Allora Uno in sigillo Quindi Nadia O attacca O cura Penso che sia meglio No 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 Dai Pensare a curare tutti quanti Per la vitale Per Martia In arrivo Stacca sette vai Ottimo Dai Fai il tuo turno prego Grazie Bravissimo Dai Ok Vai Visto che un insetto Brucia Benissimo Quasi Cacciatore Oh Dai sta morendo di nuovo Cura Dai Vai il set Diamento negativo Basterà Spero Solo tre però Vabbè si mi sento generoso Fatto bene Ho fatto benissimo Guarda Ok E' ancora in sigillo Quindi posso insistere Con Vampa vai Non fa così male In verità Ma va bene Cacciatore E vai di Flore Rigorosamente Ottimo Set Vai attacca ancora E ancora un po' i carichi l'exid Devo far salire dominio Così aumento La rigenerazione Ma come faccio a salire dominio Se mi attaccano tutto il tempo E mi uccidono tutto il tempo Vampa Cacciatore Uno è morto Uno è morto Siamo vicini alla fine Siamo vicini Senza il suo compagno E' molto più indebolito Quindi Vai Sì Lo teniamo Insistiamo Questo tira però Daniel 2500 Al colpo Non è poco Ok Crisi mentale Oh Bellissimo Quando il sigillo Si ritorce contro i nemici Così può solo attaccare Che bello E non può usare oggetti Perché è un boss Avrò magica su Nadia Dai Così anche lei si mette a fare un po' più di male Attacca set L'exid è vicina La sento Cacciatore Vai Martia Vampa Dai fai un bel po' più male Floren Sempre per tenersi Freschi Freschi come una rosa Vai Martia No Tocca set Ok E vai Martia Cacciatore E se non bastanza C'è l'exid Di set Floren Ancora Dai Sarvi un bel po' di vita Arriva set Con l'exid Vai set Folgore Incrociata E ciao ciao Serpento Ah non sei morto Va bene Muori adesso Vittoria Sigillo alfa ricevuto Ottimo E ora tornerai volentieri indietro Invece di morire e perdere tutti i progressi Allora Dopo torno qua per sconfiggere Il boss finale della zona Ma Prima appunto vorrei salvare Perché se muoio Devo rifarmi anche l'altro boss Non è proprio una mossa saggia No e no e no No Sono dorato indietro Mi son perso Non riuscivo mai a uscire da questo posto Maledetto Diamine Proca puddinga Ancetto appunto Ho fatto di trofront Per qualche motivo Non lo so Aiuta Voglio uscire Sì Sì Finalmente Finalmente Un attimo Che vado a fare qualche Compera Preziosa Molto preziosa E forgi un'arma a caso Yeah Due armi Ottimo Ottimo Devi un po' di opel Lenitivo Che l'ho finito Grazie Diamante Lenitivo Perché no E già che ci sono Mi dedico un attimo All'alchimia Ho creato un Expertia Esclusivo di Neon Aumenta gli AP Ottimo Ok Ho scelto il mio team Questo dovrebbe andar bene Spero Lo sento Perderò atrocemente Ah Meno male che c'è Ruta in squadra Altrimenti queste fiammelle verdi Sarebbero molto più veloci E stavolta Non mi perdo Sette a livello 95 Non per dire E da forza 999 Cavolo Neanche Rude la scherza E neanche Dael Wow Ok Boss finale dell'alba E un attimo che mi preparo E poi sono da te Non preoccuparti Penso che cambierò comunque Questo Omnia Alpha di Dael Per dargli qualcosa di meglio Come ad esempio Un autofocus Ok autofocus Vediamo se c'è di meglio Credo che va benissimo Autofocus E penso toglierò L'amuleto impetuoso A set Per dargli questo Che gli da L'impeto Ma Per tutta la battaglia Certo Gli cala un po' le statistiche Ma Ormai L'attacco così alto Che non può neanche calare Sotto il 1000 Va bene Va bene Ok È il momento Ah Un attimo Un attimo Sono curioso Perché Questi oggetti alchimici Possono essere attivati Fuori battaglia Non è che restano Finché inizia una battaglia Penso che ti vero questo Oh Status scudo Vai Sono interessato Oh Che forte Posso attivarli prima della battaglia È molto interessante Ho sottovalutato l'alchimia Davvero Ma sono accumulabili Vediamo Forse Forse Vediamo A noi C'è anche la musica più epica Ok Sì Sono accumulabili Bellissimo Bellissimo Per favore Mi è fatta malissimo Rudra Cominciamo bene Rudra Furone Ok Primo errore Non ho cambiato dominio Quindi riceverò Un po' più di esperienza Dopo la battaglia Allora Vediamo di fare il resto Intanto Penso che attaccherò Quegli spiriti Che si presumono Molto pericolosi Anche tu Seth E tu Floren Perché Rudra Ha già poca vita Uso Floren Perché tanto Ho gli SP Quasi infiniti Ancora Rudra Con poca vita Allora Rudra Attacca No Meglio se ti curi Rudra Meglio se ti curi Diamante Relentivo Mi spreco Mi spreco E ora Rudra Vai attacca Fa malissimo Il tizio E butta un casino Di status L'ho mancato Cavolo Sono pericolose Pericolosissime Quelle Fiamme Devo farle subito fuori Ok Fanno Ha fatto male Ok Ok Con la vita Sono messo Decentemente Martia può morire Ma non è un grave Problema Cioè si è un problema Attacca la fiamma Vai Ti prego Falla fuori Se ti attacca Cavolo Sono un casino Di status E' brutta cosa Floren Per tutti Si Ottimo Rudra attacca Non importa Se non sei in furale Rudra attacca Lumina Pyron Farà male Cavolo Mi ha fatto fuori Scusa Curano Quale cose Allora Non serve curare Perché tutti sono Full vita Tranne set Ovviamente Su set È tornata a noi Rudra Furore Vai Attacca Martia Anche se ha un malo Sporta Quindi non farà Neanche male Questo è set Set penso Che Attacca Si O va di impeto No Attacca Attacca Rudra attacca E dai Cura magari Cavolo Hai fatto male Rudra davvero Floren Ok Mi tengo in piedi Vulcani a Pyron Aia 5700 danni Stai scherzando Sicura Ok Falla fuori Quella fiammella È morto Rudra Ovviamente Dopo 10.000 danni Di fila Non poteva sopravvivere Così tanto bene Lucia vitali per Rudra Rudra Dai Torna tra noi E Martia Attacca Cosa Non rigenerano quelli Ok Fatto male Molto male E continua a curarsi Allora Dovrebbe essere Una creatura magica Quindi vediamo Si Fa male in effetti Ma cavolo Quanta vita si rigenerano Ok Atrofia Omega Ottimo Attacca Sette Ottimo Exit pronta Ti prego Dai Cura qualcuno Adesso È un po' tardi Ma va bene Cura Dai È il problema Che devo suscitare qualcuno Adesso E non morire Già Allora È il momento È il momento È il momento Scheggia vitali Per tutti Gente L'agilità Omega Ok Basta che Mi fai curare Vabbè Chi se ne frega Curiamo E basta Ok Sette Ilexid Ti prego Usa È morta una fiamma È morta una fiamma Non me ne frega niente Usa No questa è Rudra Attacca l'altra fiamma Rudra adesso Sette Vai con Folgore Incrociata Si mi piace sempre Dire il nome Con enfasi Fa male Fa male Su però curati Curatemi per favore Dai Fai il tuo turno Dai Ok Niente Scheggia vitali Vulcaria pain Ok C'è morta Martia Ma non è un grave problema Scheggia Come dire per tutti Gente E adesso Sconforto Omega Ok Rudra fa il turno Prima di Dai Rudra fa il turno Prima di Rudra Rudra No Senti Qui misure drastiche Diamante vitale Per Rudra Ok Così è full vita Ottimo E set Pensa a se stesso Tipo Un bel diamante Alenitivo Me ne accontento Sisma Pero Naia Fa male Questo Lentezza omega Ok No Lentezza no E' molto Rudra Di nuovo Che scatole Sto arrancando Ma Rudra Era full vita Poco fa Che mi ha fatto a morire Gocia vitali Per Martia Già E set Va di scheggia curative Mi sa Scheggia curative Per tutti i gente Va bene che a questo punto Del gioco Non sono così fantastiche Infatti è morto Set Diamante vitale Per set Vai 8100 punti vita Non sono fatto male Aia Aia Ti prego Dai Fai qualcosa Dai Ok Siete vivo Ma Poco fa aveva 8000 vita E due turni dopo Sei ritrovato con 400 di vita Che fregatura Allora Creature magiche Vai E poi Dail Vai Florian Ok Mi sento già Un po' meglio Non troppo Ma Attacca Dai Sì Così carichi un pochino L'exid Folgora Pairon Aia Ok Non faceva così male Meno male La meroica Vai Dei fare male A quella fiammella Fastidiosa Che mi tira malus Su malus Aia 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 E mi muore 7 E no Qui devo andare di Guccia vitale Su 7 Su 7 E così Ho l'exid pronta A idale Sì Magari anche Resuscita le persone Non so Magari Magari Vulcania Pairon Aia E c'è morto 7 Generazione No ti prego Vai Martia Martia Per favore Martia Martia Ok Illumina Pairon Resisti Per favore Ok Aspetta un pochino Che è il turno di Ok Adesso puoi andare di Scheggia vitali Così Subito Dile Può tirare la sua Exid Che cura tutti quanti Ok Se moriva Era grave Dile L'exid L'exid Dove è l'exid Dile Dile L'exid Allora E' questione di Ogni status Intende anche la morte Perché se fosse così Sarei a cavallo Meglio non rischiare In effetti Diamante vitale per set Mi serve Mi serve Addio Dile E' stato bello Oh sei vivo Dile Grandioso Dile Dile Possiamo ancora sopravvivere Non più Addio Dile Sul serio Per la vitale per Dile In arrivo Così Appena è viva Possiamo provare di nuovo La combo Se non vuoi di nuovo Atrofia Ok ok Siamo ancora vivi Aspetta un attimo No Sismap iron no Ti prego Dile Resta viva Dile Dile è viva E di viva Dile Posso provare la combo di nuovo Scheggia vitali E crisi gerune Sì Sì Sono tornato in campo Full vita Gente Come provi A aver ricaricato Tutta la nostra vita Cioè Come ti senti Aver visto Noi full vita Di nuovo Certo Se lo facesse Il boss Sarebbe Leggermente Illegale Molto Leggermente Illegale Cavolo Ho fatto due volte In fila Sismap iron Fa malissimo Quello Rudra Furore Martia L'ameroica Set Magari Usa Scheggia Equativa Assieme a Dile Scheggia Equativa Per tutti Gente E Dile Vai di Flore Mi sento già Meglio Già Ok Dai Il cadastro Momento No Sismap iron No Basta Mi ha fatto Beh ha ucciso Rudra Dovebbe essere uno dei più Resistenti Non ha senso L'ameroica Sulla fiamma E Jonat Sid Dai fiamma Muorici Per favore Scheggia Equativa Così anche Lei può tirare un bel floren E siamo in tre Quasi Fulvita Molto quasi C'è Martia Calixid Non me ne fregano i danni L'ama del creatore Sì In faccia Addio 14 mila di danno Bellissimo Sette No Non curarti Resuscita Rudra Per la vitale Per Rudra In arrivo E floren Per tutti E già qui Folgora Paiono Fa male 3000 danni Ok Neanche così grave Fai Martia E' una creatura magica Proviamo E' una creatura magica Galaverna Paiono No Mi uccide Martia No E' viva E' viva Sette Attacca Rudra Furore Dail Quella per tutti Subito Ma subito Subito Ma non so se Martia Adesso parviva comunque Perché ha poca vita Ok Finchia attaccare Rudra Siamo a posto La maeroica Però Rudra Ha poca vita adesso Rudra Diamante allenativo Prendi E' gratis Sette Attacca No Sette Comunque andrei di Floren Perché Martia C'è poca vita E anche Rudra Ha bisogno di Un piccolo boost Ok No La maeroica Attacca tu Spenserà magari Rudra E suscitarlo Sì Sì Per la vitale Per Tesset Lumina Payron Aia Ok Cosa è morto Di nuovo Non ci credo Allora Floren Perché Dail C'è poca vita Vai Martia Lama Eroica Ok Pian piano Lo posso fare fuori Folgora Payron Aia Beh Rudra attacca C'è anche l'exil pronta E fai male lo stesso Ok Cosa ha fatto Non ho visto Perché se fa male Esatto Dovei curare Ok Martia Non è così grave Quindi posso Resuscitare 7 Anche se E' possibile Probabile Che ci muoia subito Lama Eroica Becca questo Rudra Exil Ah non sei più in furore No aspetta Vai in furore Così fai ancora più male Con l'exil Così va meglio Vulcania Sì se muore Rudra Però Non posso usare l'exil Attacca set E tu vai di Floren Vai Tu vai Lama Eroica Questo fa male Molto male Adesso Rudra Tiene una croce Furiosa Beh Non fa così male Però Ci sono sempre tanti danni Adesso Cura breve Perché Rudra Sta morendo No No Sono messo male Sono messo male Non ho visto Che avevano tutti Poca vita Vediamo che oggetti ho Penso che userò Scherzi vitali No Meglio diamante Diamante per set Su E tu Un bel oggetto Colativo per Per te stessa Sì ti serve Oppa Nel nativo Per Martia Ok Sono già messo meglio Aia Aia Faceva male Molto male Ti prego Fate qualcosa Ok Ok siamo vivi Floren Per tutti Subito Ed un oggetto Per Rudra Per la vitale Per Rudra Martia L'amairoica Dai C'è di nuovo Exid pronta Posso tenerla Aia Aia Siamo ancora vivi Però Siamo ancora vivi Floren Subito E c'è l'exid Ottimo Ma non basta Rudra Fulore Set Scherzi Accuative Martia L'amairoica Ok Sono vicino Sono vicino Lo sento Fulcani Fulcani Aia Fulore Se c'è in fulore Quindi attacca Vai Ho vinto Ho vinto Sigilo Omega Ho ricevuto Ho ricevuto un po' più di esperienze Vai Ok l'esperienza qui È inutile Ho vinto Meno male Meno male Ho sbroccato il Corridoio del meriggio Che direi che Posso farlo tranquillamente Un'altra volta Giusto un'occhiata veloce Ok Si comincia già con i mostri Intanto sblocchiamo Il nostro dovuto tesoro Devo dire Innanzitutto Sigilo Magico Via Alla prossima zona Webonomico Frammento e frammento Wow Ci li regalano proprio Ehi volendo posso aprire Anche questi Posso ignorare gli altri Volendo Ah già manca Ferion Ferion Dove sai quanto servi Oblivion E poi Guanto bellicoso Diamo un'occhiata Oblivion Danno exeed Più 50% Per Demia E guanto bellicoso Solo per Ferion Può usare impeto Con attacca Va bene Ah è stato una Un'odissea Anzi no È appena iniziata Perché abbiamo superato Solo la fase del mattino Adesso c'è il pomeriggio Ci sarà la sera E la notte Immagino In ogni caso Vi ringrazio per aver visto Vi saluto E ci vediamo A quando capita A quando capita C'è il pomeriggio per aver visto A quando capita C'è il pomeriggio per aver visto